L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha affrontato nell'ultima seduta numerosi temi discutendo gli atti di indirizzo presentati dai diversi gruppi consigliari. I lavori si sono aperti con l'informativa della Presidente della Giunta, Donatella Tesei, sull'emergenza sanitaria in corso, cui ha fatto seguito la replica del portavoce delle opposizioni, Fabio Paparelli. La Presidente Tesei ha sottolineato che indice RT e tasso di mortalità sono tra i più bassi in Italia e l'Umbria è stata una delle prime regioni a uscire dalla fase 2. Preoccupano i dati dei ricoveri, sono 347 e quelli in terapia intensiva sono 41. È stato necessario un allentamento pre-natalizio, indispensabile per una minima ripresa economica e sociale. Saremo cauti su successivi allentamenti delle restrizioni. Il messaggio agli Umbri è che ci vuole massima cautela rispetto delle regole perché ciò andrà a regolamentare la nostra socialità e può fare la differenza. Fabio Paparelli ha replicato che deve essere riconosciuta l'esistenza di alcune criticità e vanno valutate le soluzioni proposte dalle opposizioni. Le 167 terapie intensive sono potenziali e non effettive. I finanziamenti previsti per il capodanno alle acciaierie, che non si farà, potrebbero ora servire per 32 ventilatori polmonari. L'ex milizia di Terni non è stata presa in considerazione, mentre invece era una struttura ampia e attrezzata che avrebbe evitato il ricorso ai locali inadeguati scelti presso il pronto soccorso di Terni. Dovremo preoccuparci di fornire a tutti gli Umbri le risorse per sopravvivere, evitando la scomparsa delle piccole imprese. Nel corso della seduta, l'Aula ha poi deciso per il rinvio in commissione della mozione della Lega relativa all'autorizzazione per i cacciatori di uscire dal proprio comune nel giorno di Santo Stefano al fine di recuperare le giornate perse a causa dell'emergenza Covid. E' stata invece bocciato l'atto di indirizzo della consigliera Donatella Porsi, Partito Democratico, che proponeva un accordo tra Regione e farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi per il Covid. Stesso esito per il voto sulla mozione firmato da Partito Democratico e Fratelli d'Italia, che impegnava la Giunta regionale a istituire una misura di sostegno specifica a favore degli operatori economici organizzatori di eventi fieristici, degli operatori economici della logistica e dell'allestimento. Respinto anche l'atto di indirizzo di cui era primo firmatario Vincenzo Bianconi, che aveva l'obiettivo di assicurare a tutte le persone non autosufficienti, senza discriminazioni in termini di disabilità, grave o gravissima, patologie, condizioni ed età, un progetto personalizzato e partecipato. Approvata, invece, la mozione di Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, Lega, relativa all'implementazione dei servizi dedicati alle politiche europee e a realizzare, anche attraverso la collaborazione con le società partecipate, la rete territoriale degli sportelli d'Europa, al servizio di enti locali, imprese e territorio, al fine di favorire l'accesso ai fondi comunitari. Via Libera dall'Aula, anche alla proposta di salvaguardia, riqualificazione e rilancio del sito archeologico della Guastuglia, a Gubbio, di cui Daniele Nicchi, Lega, era il primo firmatario. Consenso unanime dell'Assemblea, per la mozione dei consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, Lega, che chiede all'esecutivo di prevedere azioni a sostegno dei consumatori e debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali, per favorire a questi soggetti l'accesso alle procedure di sovraindebitamento. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha infine approvato il bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2019 e il programma di attività per il 2021 del difensore civico Marcello Pecorari e ha preso atto della relazione del garante dei detenuti Stefano Anastasia relativa all'anno 2019. Nella sessione dedicata al Question Time sono state discusse sette interrogazioni a risposta immediata presentate dai consiglieri per avere risposte su questioni specifiche da parte degli assessori regionali. Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, Lega, hanno chiesto chiarimenti circa le misure adottate dalla Regione a sostegno della cultura, dei beni culturali e del turismo a seguito dell'emergenza Covid. E l'assessore Paola Agabiti ha risposto che la valorizzazione dell'offerta turistica e culturale costituisce un asse strategico per alimentare un circolo virtuoso che ha un'oggettiva valenza economica e sociale. Per questo sono state attivate procedure specifiche con stanziamenti di diversi milioni di euro. Andrea Fora, patto civico, ha domandato chiarimenti circa azioni, interventi e provvedimenti per garantire la riapertura delle scuole da gennaio in presenza e in sicurezza. L'assessore Paola Agabiti ha risposto che nel decreto apposito sono stati già disposti tavoli di coordinamento presso ogni prefettura per stabilire orari di inizio e fine delle attività didattiche e da noi tale misura era stata già posta in essere con tavoli permanenti cui partecipano l'ufficio scolastico regionale e gli operatori. La Giunta ha inoltre messo a disposizione ulteriori 4 milioni di euro per fronteggiare i maggiori costi del trasporto scolastico con 101 mezzi aggiuntivi. Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, gruppo Lega, hanno chiesto chiarimenti circa le iniziative che la Regione intende assumere per monitorare l'evolversi complessivo delle vicende relative agli istituti di credito operanti nella nostra Regione al fine anche di preservarne i luoghi decisionali decentrati in Umbria. La Presidente Tesei ha risposto che le banche finiscono per togliere ossigeno alle imprese non per colpa del sistema ma per il progressivo controllo dei grandi gruppi sulle nostre banche regionali. Abbiamo iniziato a discutere con Banca Italia già prima del Covid. Se tutto andrà a buon fine, nel 2021 avremo due banche forti a nord e a sud, un assetto che con il rilancio che stiamo attuando di Gepafin potrebbe accompagnare la fase di rilancio post-Covid. Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, ha domandato a quanto ammonta rispettivamente per Avigliano, Amelia e Monte Castrilli la quantificazione dei danni dell'alluvione e attraverso quali strumenti verranno erogate tali somme ai comuni e ai privati danneggiati. L'assessore Mela Secche ha risposto che da circa due mesi stiamo elaborando un testo legislativo in proposito, che consenta di affrontare questi temi sempre più ricorrenti. Le segnalazioni inviate nella fase iniziale da parte dei comuni consistevano in somme generiche che poi abbiamo accertato essere di gran lunga superiori rispetto a quelle effettivamente sostenute. E' mancata una rendicontazione precisa. E' stata predisposta un'ipotesi di ripartizione delle risorse che stiamo però rivedendo. Simona Meloni del Partito Democratico ha chiesto chiarimenti sullo stato di attuazione del protocollo di intesa sulla riqualificazione dell'area industriale di Pietrafitta a Perugia. L'assessore Michele Fioroni ha risposto che il tema dell'area di Pietrafitta è al centro di un protocollo in cui viene definita una dichiarazione di intenti. Ma poi è rientrata nella vicenda complessa della Val Nestore sviluppo. Ad oggi c'è l'impegno di Enel di investire su un progetto legato alle fonti rinnovabili fotovoltaico da 20 megawatt e un sistema di accumulo. Sono stati investiti 15 milioni di euro per il miglioramento dell'eccellenza tecnologica in tema di sostenibilità. I consiglieri del Partito Democratico hanno domandato delucidazioni sulla prima fase del piano di somministrazione del vaccino per il Covid. L'assessore Coletto ha risposto che i vaccini verranno raccolti negli ospedali di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello dove ci sono già i frigoriferi adatti. La prima consegna prevede 16 mila vaccini e avverrà nella prima metà di gennaio. Si provvederà alle vaccinazioni negli ospedali indicati e direttamente nelle residenze sanitarie assistite con team itineranti che potranno anche andare a domicilio per i disabili. Tutti i consiglieri di minoranza hanno infine chiesto spiegazioni circa la nomina del consigliere regionale e vicepresidente Paola Fioroni a presidente dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'assessore Coletto dopo aver ricostruito genesi, composizione e funzioni dell'osservatorio ha risposto che l'organismo non è composto da figure tecniche ma ha una composizione mista anche politica. All'osservatorio non si applicano le norme sulle nomine regionali. La procedura in questo caso è quella dell'evidenza pubblica e non c'è conflitto neppure con il ruolo di consigliere regionale dato che la terza commissione di cui fa parte Paola Fioroni non valuta l'attività dell'osservatorio e non ci sono clausole valutative sull'operato dell'osservatorio.